Involtini di prosciutto crudo con insalata di quinoa Prendiamo il prosciutto crudo affettato e prepariamo gli involtini Farciamo con formaggio tenero A questo punto arrotoliamo E gli involtini sono pronti In una terrina adagiamo la quinoa tricolore express La dadolata di verdure Basilico fresco tagliato a listerelle E condiamo con sale Pepe macinato a mulinello E completiamo con un po' di succo di limone E olio extravergine di oliva A questo punto mescoliamo gli ingredienti e impiattiamo Adagiamo un po' di valeriana Aggiungiamo la quinoa tricolore Adagiamo gli involtini E completiamo decorando con verdure fresche E il nostro piatto è pronto Aggiungiamo la quinoa tricolore